salve a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale io come sempre sono pipo baudo no direi di no episodio numero 18 abbiamo finalmente incominciato a costruire la nostra nuova base come potete vedere ho già fatto qualcosa non è completamente finita con il tempo la implementerò la farò sempre più grande sempre più accogliente e sempre più carina ma oggi siamo riusciti a fare questo e devo dire che non ci vuole neanche poco perché ho lavorato davvero tante ore a spaccare pietre raccogliere alberi che in questa zona purtroppo scarseggiano anche un pochettino nel frattempo ho anche tamato due animali e voi mi direte ma perché l'hai fatto senza registrare beh non preoccupatevi non ho tamato nuovi animali ma semplicemente animali che avevamo già ma di livello molto più alto tra cui il carno livello altissimo che ci permetterà di uscire vincitore davvero tante battaglie e il paracetamolo un pochettino più potente a livello di peso purtroppo nonostante fosse livello molto più alto può portare poteva portare una quantità molto simile a quello precedente comunque lo andremo poi allevarappare sotto questo aspetto quindi direi di lavoro ne ho fatto davvero tanto ma oggi cosa vedremo oggi vedremo un nuovo animale e voi direte ma come è possibile che a livello 60 e all'episodio numero 18 ti metti a tamare un animaletto così piccolo insignificante beh ve lo spiegherò dopo continuate a guardare ecco stavo per dimenticarmi di dirvi che ora possiamo volare sulla Argentavis perché abbiamo la sella e guardate che livello 53 bene 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 ora possiamo anche incominciare la ricerca del nostro nuovo animaletto il gerba per chi non se lo ricordasse quel piccolo animaletto puccioso dolce con gli occhietti tipo il gatto di shrek quell'affarino che in pratica ha preso il posto del dodo dei precedenti episodi dei precedenti delle precedenti mappe allora adesso l'impresa sarà quella di riuscire a trovarne uno di solito sono sempre mezzo le palle ma quando si cerca ovviamente non lo si trova lì c'è un pesce che praticamente vola fuori dall'acqua bellissimo no tu vai via allora la figata del dell'argentavis è veramente oltre a poter compiere lunghe distanze di volo ti permette di prendere animali dimensioni medio piccole e ucciderle tranquillamente come sto facendo in questo modo ok vediamo se ho cibo sia voglia o il mondo allora dobbiamo volare decisamente bassi perché altrimenti il gerba non lo troviamo mai solitamente è qui la mappa scatta un pochettino solitamente si trova nelle zone dove ci sono pochi carnivori perché farebbe una fine abbastanza brutta eccone uno ragazzi è di livello numero uno davvero basso non so se magari provare con qualcosa di un pochettino più alto può accontentarci beh aspettate nel frattempo me lo porto con me vieni qui ecco qua continuiamo con la ricerca qui siamo nella nostra vecchia casetta che abbiamo abbandonato da poco in cui al suo interno ho ancora tanto materiale che devo portare nella nuova ok ho visto che mi è comparso un cuoricino sul mio quindi vuol dire che qua ce n'è un altro non lo vedo ma dovrebbe essere nelle vicinanze ancora il cuoricino vediamo si ha il cuoricino quindi eccolo lì bene vediamo un po' che livello è lui è un maschietto o una femminuccia il nostro vediamo un po' questo è sempre livello 1 va bene allora chi è il più puccioso dei due questo è un pochettino rosa oppure dove è scappato l'altro ciccino eccoti qua ho questo qua un pochettino bianco nero e un po marrone che si gratta poi ecco con gli occhietti azzurri ma io direi che questo rosa mi ispira un po' di più dove sei puccina? vieni qua ah sei un maschio ok ormai non si capisce più questo rosa è un maschio va bene allora io direi di prendere il nostro maschietto si si mi piace di più il maschietto non so perché ma il maschietto mi piace di più non fraintendete mi raccomando allora dove sei? vieni sei ancora lì nell'angolino? no sei qua sotto ok ti ho preso ti porto a casuccia e lì ti do tanta bella pappa a dopo grazie a tutti grazie a tutti eccoci arrivati molto bene lasciamo qua il nostro piccolino allora vediamo un po' come si tama prima di tutto andiamoci a prendere dei particolari semi vediamo se ce li ho ancora non credo di averli buttati forse ce l'ho nell'altra abitazione ai 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 ok stavo dicendo oddio che è successo qua? no oh chi è che me l'ha tamato? no qualcuno l'ha colpito ed è svenuto poverino allora vi anticipo per tamarlo soprattutto se a livello così bassi non usate le frecce narcotizzanti perché lo ammazzerebbero basta dare due o tre pugni volevo farvelo vedere ma purtroppo ci ha già pensato qualcun altro probabilmente è stato schiacciato dal carne lui poverino più che svenire non può fare altro allora come vedete la stamina scende il torpora scende molto velocemente quindi dobbiamo dargli subito il cibo ovviamente è un herbivore il suo cibo preferito è questo seme il seme Y proviamo a dargli praticamente è stato istantaneo io lo chiamerei cucina ok ne ha mangiati ben tre ecco l'aguila nostro piccolino ma quanto sei carina ma quanto sei carina no è un maschio se non sbaglio quanto sei carino ma bello vieni qua allora perché lo abbiamo tamato ovviamente non ci servirà per difendersi o per farci aiutare sotto questo aspetto la sua maggiore peculiarità è quella di poterci avvisare qualora il tempo cambiasse tante volte in questi giorni di gioco quando ero in giro in spedizione alla ricerca di animali o minerali mi sono trovato investito dalla tempesta di sabbia ed è davvero una gran seccatura questo animaletto qui se è tenuto sulla nostra spalla mi sembra con il tasto enter ok adesso ce l'abbiamo con noi adesso non mi ricordo come si fa ecco così ho fatto la cacca no così mi passo giù va bene fa niente non mi ricordo come si fa a guardare davanti però se è tenuto sulla nostra spalla ci avvertirà emettendo dei suoni strani che il tempo sta cambiando farà dei versi differenti a seconda del clima che sta per arrivare quindi una tempesta di lampi una tempesta di sabbia un'ondata di calore o semplicemente la pioggia questo ci servirà per capire cosa sta per arrivare ma soprattutto per magari indirizzarci verso la strada del ritorno anche solo per rimetterci sul sentiero più conosciuto e più facile quindi per ritornare a casa un'altra funzione abbastanza utile è la funzione del peso perché se è tenuto sulla spalla fa da zainetto quindi possiamo inserire materiale al suo interno e il materiale che lui terrà peserà all'incirca il 50% in meno quindi può essere un maggiore aiuto soprattutto se siamo a livelli bassi all'inizio del gioco e io purtroppo l'ho trascurato pensando che fosse un qualcosa di inutile eppure ho imparato le mie spese che se lo avessi avuto con me in certa occasione forse mi avrebbe facilitato la vita bene direi che per questo video non ho altro da aggiungere quello che c'era da dire su questo pucciosissimo animaletto l'ho detto io vi ringrazio come sempre per aver guardato il video se vi è piaciuto lasciate un like un commento e vi anticipo cosa faremo nel prossimo video tameremo un altro animale sempre a portata di spalla che ci tornerà davvero molto comodo quando andremo a tamare i carnivori ciao a tutti come on se il video ti è piaciuto e ti senti un po' più paciuto non lasciare il tuo compito incompiuto non fare il cornuto un like è doverosamente dovuto yeah ciao a tutti Grazie a tutti.